Presidente Lucio Fusaro, siamo al Biolife Medical & Beauty Village delle sue aziende qui a Milano, a Vernate, ultimi giorni di luglio con la prospettiva di questo agosto. Parliamo di pallavolo. Facciamo un piccolo salto indietro però. Inizio di luglio la squadra in ritiro a Cuneo, un'accoglienza straordinaria della città, delle istituzioni, è stato un ritiro molto speciale per la squadra. Grande motivazione, anche emozioni che sono trasparite sia dall'allenatore che dai giocatori. Io direi questo, che quando abbiamo fatto una chiacchierata con le persone di Cuneo, in particolare con Gabriele Costamagna, artefice del passaggio in A2 della squadra di Cuneo, ci siamo detti che cosa possiamo fare insieme. Perché ovviamente io credo che questo, mai come in questo momento, si debba fare un'unione per cercare di bypassare quelle problematiche che tutto il mondo ha. E non solo la pallavolo, non solo le aziende, non solo la scuola, non solo le società sportive, ma tutti abbiamo. A questo punto il ragionamento è stato, abbiamo qualche giocatore da loro. Si è pensato, facciamo una sorta di gemellaggio. Che cosa vuol dire fare un gemellaggio? Vuol dire mettere a disposizione quello che si ha l'uno per l'altro. Questo secondo me è stato il concetto che abbiamo fatto. A Cuneo noi avevamo un'esperienza pregressa. Da quest'anno con noi lavora Claudio Galli, ex commentatore, ma soprattutto ex giocatore dell'Italia vincente, di quando l'Italia vinceva i campionati. Bene, lui ha fatto quattro anni a Cuneo, ci ha procurato dei contatti. Nel frattempo Claudio Piazza aveva fatto un anno a Cuneo come allenatore. Nel frattempo Cuneo è una cittadina fantastica, perché io ci avevo anche lavorato qualche periodo fa, conoscevo qualcuno. Ovviamente non conoscevo le autorità che ho conosciuto durante questo viaggio. Abbiamo fatto un concetto che è stato, veniamo a fare il collegiale da voi. Sapendo che buona parte di questo collegiale non lo puoi fare al chiuso, quindi sapendo che lì si prestavano le montagne per essere scalate come è successo, come hanno fatto i nostri ragazzi, sapendo che la cittadina è meravigliosa e c'erano degli aspetti che ci ospitavano nella maniera giusta, ecco, sapendo queste cose siamo andati a Cuneo a fare questo collegiale. Siamo stati accolti meglio delle migliori previsioni. Io ho potuto incontrare il presidente della Confartigianato, ho incontrato il presidente di Confindustria, ho incontrato il presidente della fondazione CRC, che credo sia 8-9% dell'UbiBanca in questo momento sotto pressione. Ho incontrato il sindaco Federico, che è stato fantastico, è stato con noi. È una persona meravigliosa e non mi meravigliava il fatto che questo personaggio abbia il 70%, l'80% dei consensi, perché è stato molto disponibile, è venuto con noi, è una persona magnifica, siamo stati insieme a avere un aperitivo. Ci ha dedicato quel pochissimo tempo che aveva a disposizione, ma ci ha dedicato quel tempo, quindi è stato molto bello. Ecco, questo è stato l'inizio della nostra stagione, quindi due settimane a Cuneo. I ragazzi sono tornati lunedì o martedì, il nostro allenatore non li ha lasciati respirare un secondo, non fa così, e quindi ha cominciato a farli andare a correre, fare salapesi, il distanziamento, gli allenamenti per quanto possibile nelle nostre strutture e quindi abbiamo ricominciato questa attività. Adesso vedremo come andranno le cose. Stiamo aspettando le novità, stiamo aspettando le regole, ci stiamo dando, ieri c'è stata una riunione, una consulta di Lega che ha cominciato a proporre qualche iniziativa. Sono molto, ma molto, ma molto preoccupato, non tanto per noi, quanto perché se queste regole dovessero valere anche per le società sportive minori ho sensazione che sarà un disastro. Nessuna società sportiva minore può sopportare di fare i tamponi ogni quattro giorni, di fare la sierologica ogni quindici a tutti i giocatori e quindi immagino che questo sarà un problema che speriamo da qui a settembre si risolverà per tutto lo sport italiano, ma non per la pallavolo, ma per tutto lo sport italiano. Presidente, accanto alla preoccupazione da imprenditore, ma anche da nonno, da padre, lei però si è espresso sulla ripartenza degli sport di contatto, ha detto che ci sono tre parole che mi rimangono in mente. Lei ha parlato di sorrisi, di questo verbo di tornare e di questa idea di ritornare a trasmettere messaggi positivi attraverso lo sport, che è il senso, il valore che accomuna lei ai valori di Powerball e Milano, che è la stessa accomunanza di intenti che ha avuto modo di toccare anche con il sindaco di Cuneo. Ma attenzione, non solo con il sindaco di Cuneo, perché poi siamo andati, abbiamo incontrato anche gli assessori di Milano, abbiamo incontrato anche altre persone. Siamo tutti propensi a cercare di fare in modo che lo sport torni a avere la funzione che ha sempre avuto. Io immagino che le scuole debbono mettere a disposizione la palestra per gli sport giovanili, perché se no cosa fanno questi ragazzi? Ci ritroviamo tutti in mezzo alla strada? Quindi qual è la funzione dello sport? Mai come in questo momento viene buono quello che io ho detto. Punto primo, tornare, tornare a fare sport, tornare a stare insieme, tornare a socializzare, tornare a imparare le regole della vita, della realtà dello sport, che si impara solamente in campo. Poi ho provato a parlare di sorrisi, insomma non c'è niente come fare un bel punto, un bel gol e un bel canestro che faccia felice questi bambini e queste persone con cui noi condividiamo la parte sportiva. E poi il terzo concetto invece è un po' più importante, perché non riguarda noi, ma riguarda le autorità. Io più volte dico sempre quella stessa cosa che ho imparato negli Stati Uniti. Non c'è niente come lo sport che possa essere utile. E quando tu dici lo sport fa bene, io l'ho scritto, l'ho detto, l'ho raccontato, è retorico dire che lo sport faccia bene. È normale che lo sport faccia bene, se no ti trovi a cent'anni o meglio a cinquant'anni, magari col mal di schiena, ti trovi con le ginocle, fai sport e tieniti in condizioni che il fisico vada bene. Ma non è questo il vero valore dello sport solo. Non c'è niente come una società sportiva, come un'associazione, come un campo di calcio, un campo di basket, un gruppo di rugby, una squadra di pallavolo. Non c'è niente come queste associazioni che tengano, così, che possano tenere da conto quelle periferie disastrate che tutte le città del mondo hanno. Quindi questo è il vero valore dello sport. E in questo senso lo sport fa bene. Ecco perché io dico che lo sport ha una funzione sociale e non può essere solo considerata, va bene, non sappiamo cosa fare, allora facciamo un campo di calcio. Ma non è capito niente, non è capito niente. Questo ti presidia quelle periferie che sono complicate e tutte le città del mondo, che tutte le città del mondo hanno. Ripeterlo, non fa mai male questa funzione sociale che dà anche un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro, quella stessa fiducia che era chiusa nel messaggio della campagna abbonamenti di Milano di questa stagione. Dopo una settimana, Presidente, numeri incredibili, atto di fede. Incredibili per Milano perché altre società che sono più radicate sul territorio, magari ne hanno fatto il doppio, il triplo, il quadrupo. Noi siamo neofiti di Milano, siamo arrivati l'anno scorso all'anno zero, scusa se ti ho interrotto, ma l'anno zero voleva dire cominciamo a fare qualche cosa sul territorio. Bene, l'allenatore e i ragazzi hanno pensato a fare i risultati in campo. Essere arrivati fra il quinto e il quarto posto, perché è in ballottaggio ancora questa posizione, è straordinario per una società che debuttava sul territorio. Il bellissimo che noi abbiamo fatto è stato invece tutta l'attività che ha svolta la società sul territorio, cioè vuol dire accordi con il CSI. Insomma, io con tutto rispetto per l'ultimo in classifica, quando ci abbiamo giocato c'era un palazzetto che aveva 4.200 persone. Sai, un conto è quando tu giochi con la Juve, facciamo un esempio fuori dalla Palavolo, così non ci sono invidie. Giochi con la Juve, viene la Juve, vengono tutti a vedere i giocatori della Juve. Quando giochi contro, senza mancare di riguardo alla Palavolo e alla SPAL, giochi contro la SPAL, magari anche Milano, anche San Siro non si riempie. Noi contro l'ultimo in classifica abbiamo 4.200 persone, scusa se è poco. Poi abbiamo avuto delle cose straordinarie nell'adesione, per esempio, delle scuole a quel torneo che abbiamo fatto e che è stato meraviglioso, dove abbiamo gemellato a ogni scuola, a ogni istituto, un giocatore. Poi abbiamo fatto il torneo degli oratori, quindi fare un torneo con gli oratori attorno al discorso CSE è stato meraviglioso. Ecco, la cosa che ci è mancata, purtroppo, è stato il fatto che questi ragazzi non potranno raccontare ho vinto io, perché al mese di marzo, quando si è fermato il mondo, si è fermato lo sport, si sono fermati i tornei. Questa è la cosa che a questi ragazzi mancherà, perché dice io ero favorito e anche noi abbiamo detto la stessa cosa. Adesso, senza mancare di riguardo i nostri due avversari che avevamo in semifinale e probabilmente in finale della Coppa Challenge, noi eravamo nettamente favoriti per vincere. Avemmo portato un titolo al primo anno, Milano, vincendo la Challenge e questo certamente sarebbe stato un risultato straordinario per noi, che eravamo neofiti di quello. Tornando alla campagna abbonamenti, abbiamo fatto una proposta che diceva, non sappiamo come sarà, quindi manteniamo la proposta che abbiamo fatto l'anno scorso riservando uno sconto agli abbonati dello scorso anno, 20% per lo scorso anno, perché questi sono stati, quantomeno hanno perso due partite delle 13 che c'erano previste, quindi a questo gli abbiamo concesso questa opportunità. Per contro abbiamo regalato a tutti, stiamo regalando a tutti l'abbonamento a Eleven Sport, che è la società collegata con la Lega, che trasmette tutte le partite, sia in casa che fuori casa, e peraltro non solo le nostre. Quindi regaliamo a tutti gli abbonati nostri questo tipo di abbonamento in maniera che questi possano godersi la nostra partita in casa, caso non potessero entrare, fuori casa, ma anche tutte le altre. E questo ha favorito un po' questo concetto. Il risultato straordinario per noi, 340 persone in 5 giorni di campagna di abbonamenti. Io non posso paragonarmi a società ben più blasonate che ne hanno migliaia. Nel nostro piccolo abbiamo fatto metà degli abbonamenti che avevamo l'anno scorso, ne avevamo 900, ne abbiamo 340 dopo una settimana, vedremo come saranno le cose. E siamo all'ultima settimana di luglio. Penso che uno, invece di pensare agli allenamenti di pover voli, pensi a come andare a fare le vacanze. Presidente, per precisione sono 346 e stiamo parlando ovviamente di abbonati della scorsa stagione, quindi quando poi ci sarà magari la vendita libera ci si augura che possano essersi magari ancora più attestati di stima. Di affetto più che stima, perché io immagino che quando uno fa l'abbonamento non fa solamente un affare economico, fa un abbonamento perché ci crede, si è trovato bene, ti vuole bene, portare la famiglia e noi abbiamo fatto una serie di programmi anche per queste persone, a tutti i nostri abbonati, offriamo anche a ogni partita un gel igienizzante che è di produzione di questa azienda che ho alle spalle, poi una mascherina, nel caso ce ne fosse bisogno e ci auguriamo tutti che fra un po' non ce ne sia più bisogno, ma non ne siamo sicuri. E' uno sconto sugli acquisti di tutto il materiale sportivo marcato Allianz Power Volley. Quindi insomma ci sono questi tipi di vantaggi che diamo ai nostri abbonati ma che ringraziamo già fin d'ora di essere con noi e di far parte, di sostenerci anche in quest'anno che sarà probabilmente molto difficile. Una cosa è certa Presidente, glielo chiedo, storia da Presidente di Power Volley che da membro del CdA di Lega la Palavolo vuole, desidera e forse anche come dovere morale continuare a trasmettere messaggi positivi. Beh io credo che lo sport in assoluto trasmetta messaggi positivi, poi ci sono più sport, ci sono alcuni sport che ne trasmettono di più, altri che ne trasmettono di meno, alcuni che sono, leggo sui giornali come leggono tutti che ci sono addirittura delle società purtroppo di calcio che sono legate a ambienti che non sono tanto diciamo così puliti per non dire peggio, ecco la Palavolo non ho mai sentito di cose di questo genere, ho visto sempre, sempre un'accoglienza straordinaria quando siamo andati, io per abitudine, per abitudine vado a salutare sempre diciamo così le tifoserie avversarie con cui faccio una foto, con cui brindo con loro prima della partita, no perché così almeno e poi dopo quando siamo in campo ragazzi in campo ognuno dalla sua parte, però questo deve essere quello che noi dobbiamo fare, lo sport è così, se no che senso ha? L'ultima battuta, veniamo a un punto di vista tecnico sui nuovi giocatori, ho avuto modo di vederle anche dal vivo Jean Patry in attesa di abbracciare Mar e Di Shikawa, insomma un giocatore... Allora io Jean Patry non me lo ricordavo, mi hanno detto che era arrivato terzo nella classifica degli opposti, l'ho guardato da quando abbiamo, non me lo ricordavo, ammetto che io non sono uno molto tecnico. Ho parlato con l'allenatore della Francia, Tilly, che è un amico che giocava con me, anzi io avevo quasi già smesso quando giocava lui, quindi insomma ci siamo un po' incrociati, mi ha detto guarda che è un bravissimo ragazzo ed è stato l'artefice della nostra promozione, la nostra qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo e quindi ho detto per bacco questo è un ragazzo che mi piace, in più sappi che è grintoso, in più sappi che è giovane, in più sappi, benissimo ho detto, hanno preso con Jean Patry, preso Jean Patry, sostituire Nimir non sarà facile, perché Nimir è forse, secondo me a parte essere un ragazzo bravissimo a cui siamo, sono affezionato, ricambiato, è un personaggio che secondo me è uno dei più forti giocatori al mondo, se non il più forte nel suo ruolo, quindi sostituire lui non sarà facile, però immagino che dopo Pelé c'è stato Maradona e dopo Maradona c'è stato Ronaldo, Ronaldinho e poi adesso c'è Cristiano Ronaldo, immagino che così funzioni la vita e quindi questo ragazzo possa essere, e glielo auguro, il nuovo più forte giocatore del mondo. Su quell'altro invece ce l'ho ben presente, no, Yuki Ishikawa, ce l'ho ben presente perché non mi dimentico che quando siamo andati a Padova, no, perdevamo 2-0, abbiamo fatto due pari, 10-8 per noi il quinto, mica che è andato in battuta sto sciagurato, ci ha fatto 4 ace di file, poi è andato in attacco, ha fatto 3 punti, ha vinto da solo, abbiamo perso 15-10, questo me lo ricordavo molto bene, in più me lo ricordo bene anche per un altro aspetto, perché quando sono stato a Tokyo qualche tempo fa, uscendo dall'aeroporto ci sono 4 facce lì fuori dall'aeroporto, una delle 4 è lui, sono i 4 testimonial di 4 sport diversi delle Olimpiadi di Tokyo e questo mi ha fatto pensare che questo è un personaggio ben conosciuto, bene, da quando abbiamo annunciato che questo ragazzo è arrivato, i nostri social si sono arricchiti, sono esplosi, si sono arricchiti di tante partecipazioni e abbiamo ricevuto anche 3 o 4, 3 per la verità, televisioni che ci hanno chiesto di poter fare una chiacchierata, fare interviste, ci ha chiamato il consolato di Milano giapponese, quindi immagino che questo sia anche un concetto che a me piace molto, cioè il concetto di essere utile alla collettività anche con personaggi che si prestano a essere diciamo così personaggi di marketing, personaggi che io definisco molto popolari, oltre che mi auguro che sia poi il campione che è e di ricambiare a quello che ci ha fatto l'anno scorso e le altre squadre, ecco quindi questo certamente. Tutti gli elementi per una grande stagione Presidente? Tutti gli elementi per fare una bella stagione come abbiamo fatto lo scorso anno, lo scorso anno noi ci siamo trovati al debutto, al debutto del campionato, ci siamo trovati con senza centrali. Io mi ricordo la faccia di quel bravissimo ragazzo che si chiama Gironi che viene dal nostro vivaio, è un ragazzo di 20 anni, bello, alto, biondo, giocatore di serie A, che quindi se la tirava come tutti i ragazzi di 20 anni, beati loro, in mezzo al campo. Immagino quel giorno, giorno debutto all'Alliance Cloud, 27 ottobre, quindi emozione del debutto. Bene, questo ragazzo si presenta, con il debutto, bolsa in mano, l'allenatore gli dice, oggi tocca a te. Io ho visto questo ragazzo che ha pensato che scherzassimo, no? E invece, no, tocca a te. E peraltro non il ruolo che hai tu che sei in zona quadro, vai a giocare al centro. Io mi ricordo, l'ho guardato tutta la partita, e peraltro conto i campioni d'Italia di Civitanova. Quindi immagino che questo è stato un debutto in serie A colossale di un figliolo che, adesso se posso permettervi, se non se l'è fatto addosso, poco ci mancava. Ecco, questo ragazzo ha fatto tutta l'andata, tutte le cose, ci ha portato al quarto posto. Bene. E io credo che questo sia quello che noi possiamo fare. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Offrire ai giovani le opportunità, ai tifosi le soddisfazioni. Non dimentichiamo che siamo andati a giocare a Perugia, abbiamo vinto 3-0, siamo andati a Civitanova per festeggiare la loro vittoria nel campionato del mondo e abbiamo vinto 3-2. Non erano tanto felici del festeggiamento che gli abbiamo offerto. Quindi, insomma, abbiamo fatto delle cose che sono state belle. Non voglio ritornare indietro di un anno, quando il 13 di gennaio del 2019 abbiamo fatto il record di tutti i tempi, che probabilmente resterà imbattuto di 12.343 persone al Forum di Milano. Però voglio dire che se fai le cose fatte bene, la gente ti... Io non sono tanto uno che la racconta, no? Non sono capace di fare queste cose. Amo un understatement. Ho un'ottantina di aziende nel mio gruppo e sono diventato conosciuto perché... per la pallavolo? Bene, insomma. Quindi vuol dire che ho stato bravo a proteggermi tutte le altre, almeno nell'essere visibile. Adesso direi che la squadra è diventata visibile, i ragazzi sono molto bravi, abbiamo preso persone che facessero non tanto l'individualità, ma facessero il gruppo. Noi, io sono abituato da quando giocavo io ad avere una squadra, avere compagni di squadra, avere a pensare sempre come una squadra, a sapere che a mezzogiorno non si usa il cellulare. Bene, non c'è tecnologia a tavola. Va bene, se siamo a tavola noi si mette via. Questa è la disposizione del allenatore. Io mi sono seduto a tavola e lui mi ha detto, presidente, non te ne vera male, ma metti via il cellulare. Va bene, mi sono adeguato subito, mi è piaciuto. Quindi questi principi, queste regole, queste cose, fanno parte che, insomma, la squadra è una squadra. Poi se tu prendi Superman o gli Avengers o qualcuno, allora questo è un altro discorso. Io non me lo posso permettere e penso che noi faremo un bellissimo campionato come lo scorso anno.